buona giornata amici di fano tv su in alto i cuori svegliatevi fuori fa abbastanza freddo è una giornata invernale oggi comunque non ci riscaldiamo leggendo i giornali perché le notizie sono calienti questa mattina vediamo subito di iniziare con l'almanacco del giorno per vedere il santo che oggi si festeggia ed ecco la grafica si festeggia sant'agnese sant'agnese romana vergine nacque alla fine del terzo secolo fece voto di castità un pretendente vistosi rifiutato la denunciò era il periodo di diocleziano la persecuzione furoreggiava nei confronti dei cristiani ebbene come cristiana agnese fu condannata a morte e morì decapitata ma precedentemente ci furono altre condanne ci furono altre condanne come per esempio quella di essere bruciata viva nel rogo ma la cronaca dice che le fiamme si dividero e poi una nube coprì la nudità della santa comunque sant'agnese fu anche condannata a essere a essere jugulata così come si dice e così come si fa con gli agnelli ecco perché spesso è raffigurata insieme ad un agnellino al suo fianco sant'agnese una santa da venerare passiamo ora alle previsioni del tempo le previsioni del tempo vedono sulle marche questa mattina cieli chiusi ci sono molte nubi nubi nere nubi fosche freddo pungente con piogge ma soprattutto nevicate dai 200 ai 300 metri la quota si sta notevolmente abbassando ma probabilmente localmente ci potrebbero essere nevicate anche anche sulle coste i venti ispireranno con una tensione media da nord sulle coste e nell'interno da nord nord ovest le temperature sono tra 6 e 7 gradi c'è una leggera differenza tra la massima e la minima comunque il mare rimane mosso rimane mosso ed ora apriamo i giornali questa mattina diamo la precedenza al corriere adriatico ma il resto del carlino apre con la stessa notizia ebbene ieri è stato presentato il programma della prossima edizione del carnevale di fano un mese di manifestazioni sono circa una trentina che correderanno le tre sfilate dei carri allegorici che si tengono il 5 il 12 e il 19 febbraio non sono queste solo le grandi iniziative del carnevale ma specialmente nei weekend dal venerdì alla domenica quindi venerdì sabato e domenica ci sono molte molte manifestazioni il venerdì è dedicato è un giorno dedicato alla cultura il sabato alle feste ai veglioni e la domenica ovviamente alle sfilate ci sono diverse novità quest'anno innanzitutto riprende il carnevale nella sua veste canonica nel suo tempo canonico perché gli ultimi due anni sono stati così molto molto sacrificati per quanto riguarda la pandemia che ha furoreggiato anche nel nostro territorio e quindi a posto dei limiti alle manifestazioni carnevalesche quest'anno invece tutto ritorna come sempre ma dicevo ci sono diverse novità una delle più importanti è il patrocinio che alla manifestazione ha detto la ha dato l'asi ovvero l'agenzia spaziale italiana niente meno che l'agenzia italiana spaziale e infatti vedremo che a parte il fatto che il pupo avrà la fisionomia di samantha cristoforetti vediamo proprio come ospiti in carne ospite come in carne ed ossa sarà uno dei astronauti che sono andati in orbita ovvero paolo nespoli ebbene lui sarà presente salirà anche sui carri sperimenterà l'atto del getto e quindi sarà visibile a tutti comunque è uno dei pionieri perché ancora siamo in questa fase dei voli spaziali feste concerti e carri allegorici un tourbillon da 30 appuntamenti si inizia il 4 di febbraio con una iniziativa importante ovviamente e non ve le elenco tutte perché finirei tutta la nostra trasmissione con il parlare del carnevale ma ci sono anche tante altre notizie da rilevare il 4 febbraio si inaugurerà con una con una iniziativa a palazzo bracci pagani che quest'anno assumerà la funzione di palazzo del carnevale e ci sarà una mostra una mostra dedicata al centenario della musica arabica pensate 1922 2000 e 22 cento anni cento anni di baldoria cento anni di colore cento anni di folklore cento anni di tradizione che sono state sempre preservate da questo gruppo così tereogenico così composito che ha rallegrato non solo il carnevale di fano ma anche tante altre manifestazioni in tutta italia e anche all'estero ed ora passiamo alle altre notizie ieri si è tenuta una riunione importante a cucurano nel circolo anziani di cucurano il partito democratico ha posto in evidenza il progetto della ciclovia del metauro con tutte le sue obiezioni vediamo subito il titolo ciclovia tutto il partito democratico insiste meglio lungo la ferrovia dunque è contestato il progetto che è stato approvato dalla regione che si allontana dalla ferrovia va un po' a zig zag anche anche in mezzo ai campi ebbene è stata elencata dal partito democratico presente ieri con diversi esponenti c'era anche il consigliere regionale biancani che ha presentato un suo progetto in regione ma che è stato scartato è una serie di criticità la principale è stata individuata a sant'orso in via galilei ci sono tratti al buio è stato detto senza illuminazione altri che passano in mezzo ai campi un altro ancora lungo la strada flaminia separato dal traffico a motore solo da una riga sull'asfalto e quindi poco sicura una zona di sosta è individuata a ridosso della centrale elettrica il progetto biancani invece prevedeva un investimento di 4 milioni e mezzo per realizzare 17 chilometri da Fano a Tavernelle e soprattutto non prevedeva espropri perché poi il progetto invece della regione fa sì che molti terreni vengono poi portati via ai proprietari attuali ebbene un investimento di 4 milioni per 17 chilometri e fiancheggiando la vecchia ferrovia senza espropri come dicevo perché il sedime utilizzato è tutto di proprietà delle ferrovie e quindi non ci sarebbero stati problemi per fortuna invece la piscina va avanti mentre la ferrovia ovviamente è in blocco in questo momento insomma si cerca di arrestare il progetto invece la nuova piscina che la fondazione Carifano si appresta a realizzare nei pressi dell'aeroporto va avanti anzi dobbiamo dire che è prossima alla ultimazione dei lavori finita la nuova piscina la consegna a febbraio ieri c'è stato un sopralluogo di tecnici insieme al sindaco Massimo Seri e al presidente della fondazione Giorgio Gragnola sarà pronta entro febbraio la nuova piscina e a febbraio anche la pubblicazione del bando per l'affidamento della gestione non ci vorrebbe che passasse molto tempo tra l'ultimazione dei lavori e la possibilità della piscina di diventare operativa perché magari non si è trovato ancora il gestore quindi occorre agire per tempo in modo che poi i due momenti possano coincidere finiti i lavori si inizia subito a diventare operativa la piscina quindi si aprono le porte e le vasche possono essere affollate vediamo anche un articolo di politica di spalla sul Corriere Adriatico Primarie, Partito Democratico, Mascarin appoggia Elish Lane l'assessore partecipa alle elezioni come esterno ed ora invece andiamo a Fossombrone a Fossombrone si parla di sanità perché poi le dichiarazioni che ultimamente ha fatto l'assessore alla sanità quello regionale, Salta Martini hanno destato molte molte polemiche lo hanno fatto a Fano, lo hanno fatto a Sasso Corvaro lo hanno fatto a Fossombrone ed ora c'è un intervento del Presidente della Commissione Sanità di Fossombrone l'ingegnere Bartoli no scusate il Presidente della Commissione di Sanità di Fossombrone che replica un po' infastidito alle consigliere regionali a Fossombrone ha detto sì sì, l'ingegnere Marco Bartoli che è appunto il Presidente della Commissione mi stavo confondendo con Bartoli della provincia in realtà qui si tratta del Presidente della Commissione di Fossombrone a Fossombrone serve comunque un punto di primo intervento senza il quasi sic et sempliciter è un importante presidio per la sanità non solo della cittadina metaurense ma anche per tutto il circondario perché Fossombrone fa da riferimento per diversi residenti un numero importante di popolazione e quindi anche qui continuano le polemiche sull'assistenza sanitaria del nostro territorio la Regione il territorio più a nord della Regione e quindi che fa riferimento alla Romagna dove c'è verso la quale c'è una forte mobilità passiva incidenti in calo del 24% ritirate 8 patenti abbiamo visto ieri come era la festa di San Sebastiano e San Sebastiano è anche il protettore dei vigili urbani e proprio in questa occasione il Comune di Mondolfo ha fatto un consentivo dell'attività della Polizia Locale complessivamente nelle 2022 è stato rilevato sono state elevate 1485 contravenzioni 8 le patenti ritirate e 3 le denunce per guida in stato di ebrezza in calo per fortuna agli incidenti 42 contro il 55 dell'anno precedente un calo del 23,6% di cui 23 con lesioni alle persone e 19 con danni solo alle cose sono state poi 54 le sanzioni dell'attività di Polizia Amministrativa ai sensi del regolamento di Polizia Urbana un fatto di cronaca a Pergola sono stati denunciati coloro che hanno sottratto soldi da un conto corrente lo hanno fatto usando la carta di credito che era stata sottratta da una autoventura che era stata parcheggiata nei pressi rubano carte di credito da un'auto parcheggiata per prelevare 3.000 euro è accaduto nelle settimane scorse nella città di Bronzi Dorati e i carabinieri della stazione hanno denunciato a piede libero un cinquantenne originario della provincia di Treviso e un 39enne della provincia di Padova con precedenti specifici quindi erano usi a attuare questi comportamenti avevano rubato appunto da una borsa questa carta di credito che era lasciata lì nell'auto forse questo è un po' un comportamento imprudente non bisogna lasciare nulla nelle auto quando queste vengono parcheggiate perché suscitano poi la cupidigia dei ladri e poi si erano recati a prelevare il conto a prelevare i soldi dal conto corrente ma sono stati sorpresi dalle telecamere e questo ha aiutato gli inquirenti per identificarli e quindi sono stati individuati ed è una bella, commovente iniziativa quella che si è svolta a San Lorenzo in campo ebbene il parco giochi è stato dedicato al piccolo Mattia Luconi il bambino che è perito durante l'alluvione dello scorso settembre quel bambino che è stato trascinato via dalle braccia delle madri la furia delle acque l'ha portato via per molti molti chilometri finché non è stato ritrovato in un terreno del comune di Tre Castelli poverino non c'era più niente da fare per lui ebbene piccolo Mattia giocava in quel parco giochi e il sindaco dell'Onti ha voluto intestare quel parco a suo nome sarà ricordato per sempre dai bambini e anche dalle loro famiglie giriamo la pagina e vediamo quella di Senigallia ecco il titolo che appare operai volontari e mezzi spazzaneve il maltempo si fa sentire e Senigallia si attrezza in modo particolare per le località collinari montane arriva il gelo in campo una task force da Arcevia a Fabriano la guardia è alta ieri la riunione operativa online con la prefettura occorre attrezzarsi per non poi rimanere impreparati di fronte a una recrudescenza del maltempo ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina pesarese che pubblica il Corriere Adriatico vediamo qui che si parla del cavalcaferrovia de Sabata i lavori che si profilano per la cura e la manutenzione di questa struttura costituiscono una operazione complessa rifare il cavalcavia non è una cosa semplice ma noi, dice l'assessore Pozzi, siamo pronti a ripartire il comune ha già incontrato la ditta per stabilire tempi e modi da condividere poi con le ferrovie dello Stato perché poi il ponte sovrasta la linea ferroviaria non chiamatela incompiuta ha detto Pozzi anche perché i lavori si stanno progetto lavori si stanno dilungando non poco per quanto riguarda l'inizio di questo intervento e le cantiere proseguirà ancora per un anno lavori di straordinaria manutenzione sono stati stanziati 3 milioni il finanziamento è legato al PNRR e ad aggiudicarsi i lavori è stata l'azienda pesarese Costruzioni Brandi Egidio SRL e qua invece abbiamo ancora anzi non invece e qui abbiamo anche un altro intervento che rimane lì da tanto tempo e non viene eseguito si tratta della riapertura della strada di San Nicola vediamo qui in questa fotografia la chiusura di questa strada Malandrino chiede interventi per lo storico borgo ridotto a dormitorio Daniele Malandrino è il consigliere comunale d'opposizione nel consiglio comunale di Pesaro appartenente a Fratelli d'Italia comunque questo è un progetto che lì sulla carta anzi in un cassetto da diversi anni questa strada è chiusa e costringe i residenti che debbano poi percorrerla a passare a fare un lungo giro e quindi perdite di tempo e la situazione destra ovviamente disagi e proteste Pesaro come una piccola Svizzera stoppa le brutture del centro storico è diventato operativo l'osservatorio sul decoro che dovrebbe mettere ordine recependo le istanze del cittadino un cittadino che vede qualcosa di brutto va lì all'osservatorio e dice guardate qui c'è una situazione da riparare cercate di farlo al più presto vedremo se l'osservatorio oltre a prendere le segnalazioni dei cittadini riuscirà anche a collegarsi con coloro che poi devono mettere riparo a queste situazioni e si comincia con le fioriere selvagge e dai chioschi abbandonati ebbene tutto questo viene coordinato dall'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci distruggono il self service per poche decine di euro più atti vandalici che furti il titolare seri danni appello per ritrovare i pezzi ebbene sono stati compiuti danni per oltre 3.000 euro a fronte di un bottino di 100 o poco più 100 euro erano i soldi contenuti in un self service di un distributore di benzina ebbene per scassinarlo hanno dovuto sfasciare tutto per prendere questi pochi euro un danno considerevole a livello ristrutturale ecco perché queste azioni pur non creando molti danni per i soldi prelevati devono essere bloccate perché poi i danni sono altri sono quelli delle strutture come abbiamo detto ed ora vorrei concludere l'esame del Corriere Adriatico con un articolo che forse farà sorridere però insomma è veramente squallido e degradante quello che è accaduto ha scavalcato il recinto per fare sesso con caprette e galline ebbene questo capita anche questo è un immigrato un immigrato che poveretto si vede che non riusciva più a contenersi ed è finito sotto processo per maltrattamenti agli animali addirittura sembra che una gallina sia morta dopo l'operazione l'uomo però è da tempo irreperibile è stato giudicato non era presente e quindi dovrà essere ancora individuato e poi soggetto alle sentenze del giudice capita anche questo ai nostri tempi chiudiamo il Corriere Adriatico e diamo un'occhiata invece al resto del Calino dove troveremo pressa poco le stesse notizie di cui abbiamo parlato l'apertura è dedicata al Carnevale che va in orbita bellissimo il titolo con Nespoli e Rosita Nespoli è l'astronauta di cui abbiamo parlato Rosita invece è un mini robot un mini robot che sarà presente al Carnevale di Fano e probabilmente susciterà la curiosità non solo dei tecnici perché poi sono ingegneri che parlano che interessano di robotica di informatica eccetera ma anche dei bambini perché poi queste cose destano anche curiosità e tenerezza per quanto riguarda i bambini vediamo anche come Vittorio Colonna viene ancora occupato da abusivi che lo usano come un dormitorio nonostante il blitz che è stato compiuto nei giorni scorsi ora un altro blitz da parte degli agenti del commissariato di Fano ha individuato dieci abusivi che cercavano riparo all'interno della struttura ma non si limitano purtroppo a cercare un tetto poi lì dentro fanno dei danni distruggono tutto accendono fuochi insomma devastano tutto quello che rimane rimane ben poco ormai nel Vittorio Colonna però insomma ancora guasti ancora problemi finché non si trova una soluzione per farlo ridiventare abitato questo complesso capiteranno queste purtroppo queste cose vediamo un'altra notizia di cui abbiamo parlato si parla dell'assemblea che si è svolta a Cucurano complanare sud dell'importante e sognare due ipotesi per il tracciato che dovrebbe liberare la statale o tutta a monte della 14 o solo in parte diverso il parere sulla ciclabile complanare sud della provincia ha presentato ieri pomeriggio poi in un'altra iniziativa quella della ciclovia del Metauro si è svolta a Cucurano qui si parla invece di un'altra assemblea che si è svolta a Torrette due ipotesi di tracciato alternative alla statale 16 l'ipotesi che riguarda una nuova strada che dovrebbe correre a monte dell'A14 con un costo ipotizzato di 58 milioni di euro nell'altra soluzione l'infrastruttura passa per un primo tratto a monte dell'autostrada per poi proseguire a valle il costo è 40 milioni di euro ci sono appunto diverse iniziative un parco giochi dedicato a Mattia Sarai sempre con noi San Lorenzo in campo la toccante cerimonia che in memoria del bimbo strappato alla vita dall'alluvione del settembre scorso e poi il centropagina il consuntivo della polizia locale di Mondolfo torchio più pesante di 30 mila euro e beh anche qui ci sono più trasgressioni rispetto all'anno precedente il bilancio comunale un po' se ne avvantaggia perché poi insomma quando le multe crescono i soldi vanno in comune e dovrebbero essere utilizzati in gran parte per fare le strade più sicure rubano la carta di credito e Bancomat e prelevano un conto da un conto 2850 euro ma abbiamo visto che sono stati individuati nella pagina di Urbino si parla di un caso che si riferisce alla sanità e la protesta di una donna che evidenzia come la sorella sia stata sballottata senza motivo stata sballottata al pronto soccorso dell'ospedale di Urbino doveva essere trasferita a Fano così non è stato allora lei ha preso l'auto ha portato via la sorella e l'ha portata al pronto soccorso di Fano insomma c'è stato tutto un movimento che ha creato disagi e malcontenti nei confronti appunto delle utenze delle strutture l'hanno dimessa dal pronto soccorso di Urbino e non dovevano farlo mia sorella ha 73 anni ha detto questa signora operata di tumore all'esofoco è una paziente fragile ed è stata sballottata senza motivo questa è la protesta di Lucia Lucarini 65 anni di Urbino che racconta la trafila che ha subito sua sorella a partire da mercoledì scorso al pronto soccorso insomma ci sono sempre problemi per quanto riguarda l'insufficienza di personale che dovrebbe smaltire tutte le richieste forse troppe sono anche le richieste che sono possiamo così non va bene che si riferiscono al pronto soccorso per dire dovrebbero riferirsi in altre strutture prima di tutto al medico di base però quando uno sta male la prima idea è quella di andare al pronto soccorso e qui sono molti purtroppo i codici verdi che devono aspettare tanto tanto per ricevere le cure necessarie vediamo invece il maltempo che in questo caso è una benedizione per chi ama lo sport dello sci si torna a sciare e si chiudono le scuole ebbene le scuole si chiudono a Urbino guardiamo questo trafiletto per quanto riguarda le scuole le decisioni già ci sono a causa delle previsioni meteo il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha firmato l'ordinanza con cui si dispone per sabato quindi per oggi sabato 21 la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine grado presenti nel territorio comunale si parla di Urbino ovviamente incluso il nido di infanzia comunale tartaruga si legge in una nota del comune quindi un provvedimento invece per quanto riguarda gli impianti sciistichi non era ieri pomeriggio ancora non era stata presa la decisione di aprire per oggi gli impianti tutto è subordinato alle precipitazioni che sono attese per questa mattina insomma nella notte adesso non so che cosa è accaduto questa notte ma bisogna vedere appunto come il territorio si configura nei confronti delle precipitazioni nevose e maggiori notizie ovviamente si sapranno o nel corso della giornata di oggi o addirittura nella giornata di domani comunque il weekend dovrebbe essere favorevole per chi ama lo sci ed ora diamo un'occhiata anche alle notizie di sport oggi è sabato e vediamo quali sono le avversarie delle squadre di casa per quanto riguarda il calcio visse brevi sul mercato ora ho tre carte in più afferma il titolo il tecnico ringrazia il club per i rinforzi che ha ottenuto e si prepara a fare esordire Gerardi l'expunta del Picerno al posto di fedato infortunato Tonucci e Di Paola sono ok ebbene serve soprattutto una vittoria per rilanciarsi in classifica e accumulare fiducia gettare le basi per un girone di ritorno a tutta velocità perché quello di andata lo sappiamo non è stato molto molto esaltante e questo l'obiettivo della Vispesaro all'antivigilia della sfida con il Ponte d'Era che si terrà domani alle ore 17.30 è una sfida delicata questa per il collettivo bianco e rosso che non vince da due gare ma che il sesto posto in classifica quota 37 punti se l'è meritato e come dice il giornalista vediamo invece che cosa accade per in granata il Fano calcio Capezzani Fano pronto per ospitare il Tolentino l'ex turno è grande assente per la squalifica l'ex di turno Capezzani è assente per la squalifica il ricorso è stato respinto non è giusto e avrei voluto essere in campo per questa partita ha dichiarato Lorenzo Capezzani il ricorso presentato dal Fano contro la squalifica di tre giornate che ha subito il giocatore ebbene ha destato qualche polemica e qualche risentimento non ci voleva perché ci speravo ha detto Capezzani visto che non è andata come io volevo come io pensavo vediamo anche il basket Pesaro vuole ricominciare con il piede giusto stasera alle ore 20 e 30 l'anticipo contro il Verona apre il girone di ritorno coach Ramagli la VL ha giocato la migliore partita della serie A e pratica il gioco migliore per quanto riguarda il campionato ebbene con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa vi auguro un buon weekend una buona giornata e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 per le notizie del giorno grazie per l'ascolto a risentirci 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 a risentirci